Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella nuovissima puntata di Mads Pack Passato un po' di tempo, ma ehi, eccoci qua Isingar sta facendo cose con la tua spada Mi sto smanettando Con la tua spada Mi sto smanettando Di cazzo non posso spararti E ha bisogno di cibo, ma in realtà sai che Forse qualche pezzettino di carne Cioè, guarda dove abbiamo pezzettino di carne Nampo Che stai a fa... Lasci le cose qua Dai fermo, fai mi fare la carne Allora, abbiamo della carne, abbiamo Se la mettiamo qui da... Spostati La mettiamo qui dentro, ok? Facciamo così, ok Allora, ti ammettami stecchi a te Ammettami stecchi a me Ma non ci faccio niente con sta merda Ma tu non capisci che non devi romperli, ok? Allora ragazzi, oggi faremo un paio di cosette principalmente Cosa ti ho detto, è che bisogna fare Ripetilo che poi... L'alloy, l'alloy smelter perché ti vuoi smeltarti il pisello Devevo farci l'alloy smelter ragazzi Ma non per quello che pensa Hezinger Infatti bisogna farsi l'alloy smelter Per poter andare avanti e farci la farming station Che farmerà quella roba Senza che Hezinger si... 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 Ciulli qualcosa, insomma Perché lui è bravo Ciullo niente Tutti, ciulli le cose Allora, per... Che ruba Oh Dai zitto Allora, ci servono pezzettini di ferro E io so dove trovarlo In realtà, tipo, si so perché Noi ce l'abbiamo un casino, non ce l'abbiamo Sta tutto qui sotto Guarda, del ferro, ma chi bello è feo Abbiamo fatto in tempo, sì, ok Bisogna farsi Grazie Hezinger Sempre, sempre convinto della tua bassa Che cazzo si faccia? Oh, oh Grazie, però Se mi servirebbe anche un po' di redstone E mi servirebbe del gold nugget Io ce l'abbiamo E del copper Sperato che ce l'abbiamo Copper Che culo Dove l'ingotti Affetto, ok Damme ne uno, damme ne uno No No, vai via Allora, bisogna farsi Ragazzi Eh, se ricordo bene Vediamo un po' Crafting in questo modo Era così Che? Che sto così Ci servirà un basic Dammelo Dammelo Ora Dammelo Ok Servirà un basic Faccio il tetto Sto facendo qui che si può farlo vedere anche tu Ai tuoi iscritti Anche se in realtà Ai tuoi iscritti Non vogliono vedere certe cose Quindi Ma smetti Ti vanno Ti vanno fra poco Ti giuro Allora, bisogna farsi Ma io spero ovviamente Che si faccia così Che se no Se non cambiamo il crafting Sono nella merda Lo sai io? Ah no, ok Che stai fa Ok Cobleson, signor Hezinger Buttamela Non ce l'hai, vero? No, ce l'hai Bravo Hezzy Eh, magari è uno stack intero Senza buttarmi un pezzettino alla volta Secondo me è un po' stronzo Come cosa Eh, sigarra Se butti un pezzettino intero A me non arriva Fin quando non arrivi lo stack Lo so, è divertente Sei una merda, sappio Allora, mi servono 123, 123, 12 Mi hai preso una fornace Mi hai preso vero Non è vero È vero C'erano tre Ce ne erano Non è vero Mi hai dato indietro Mi hai dato Amo l'ho vista Non è vero Non sei tu che ti sei sbagliato a cliccare Amo l'ho bando Ok, allo smelter fatto Allora, andiamo su Andiamo su Abbiamo un'energia a proposito? In realtà Aspetta, te lo dico subito Sì, siamo benvenuti Perché hai messo questa redstone torch qua? L'hai messa tu? Che cazzo ne so io? Vabbè, mettiamolo qua Ok Dovrebbe arrivare l'energia? Sì Ci serve del Cosa mi dice? Abbiamo un problema Che è? È un fantasma Pure incazzoso Porca quanto l'hai Oh, oh, oh Eh sì Leva un botto, leva L'hai dato la boccetta Non l'ho usata Fermo È un pacco Stai zitto Stai zitto È un pacco Allora, in realtà Il problema è Adesso Dobbiamo farci solarium Ok Il solarium Si facco Ah, 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 ah Eh sì Dammi la mano T'ho morendo Eh sì, muoio Eh sì, muoio Questi vengono da me Muoio Sono rallentato Eh sì, tu sei tardo Non rallentato Una bella differenza Lol Oddio, c'è Ma che è questo? Che volete? Che volete? Lui è stato Ersingar È stato Ersingar A profanare le vostre tombe Non sono stato io Pietà Pietà per il grande signore Ulys Poi, poi Poi mi dici Eh sì Non me lo buttare addosso Eh sì Uccido Eh sì L'altro Eh sì Che cosa uccide? Scusa Ho sentito bene? Eh sì Da dove è Cristo Viene il gasto? Non lo so Ma che Cristo No, fermi Che cosa sta succedendo? Non lo so Eh sì Ma stiamo morendo Come degli idioti Continuamente Eh sì Eh sì Da dove diami Ah sì Eh sì Il fatto che arrivi la roba da me Tranquillo È tutto nella normalità È un cheat Mi ha ucciso con due colpi Eh sì Uccidilo Sono morti tutti? Eh sì Ma il gasto da dove proviene? Scusami Da sopra Ma che vuole? Oh Eh sì Eh sì Abbiamo un problema logistico Che Cristo vuole Non ha messo i cosi Ah perché Se un uccidiano All'improvviso Come faccio Uccidere sto già Non so Piccolo addivicio No La mia spada Aspetta Oh ci sono cose Non preoccupiamo Eh sì Eh sì Un arco Fatti un arco Eh sì Non perdite Eh sì Eh sì Devi fermare sto tizio Eh sì Non quella pozzetta Ma sei tardo Pozzetta Inversibilità Rega Eh ma no Ma no Eh sì Eh sì Che Cristo fai? Ho ucciso? Ho ucciso il tizio Eh sì Non vedo niente Blindness Eh sì Ma che Cristo Di problemi C'hai Eh sì 250 HP Ma che che Va l'addosso Sì La fai Vai 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 Tu lì Io non ci vado T'avviso Oh Quando mai Oh L'ho buttata addosso Pezzente Però devo uccidere sto cosa Ma no Si così riescono dal fuoco Dal fuoco Dal fuoco Eh sì Ho preso una bella shower Aspetta Ho preso il mio arco Preso il mio arco Preso il mio arco Pezzente Vieni qua Attento L'ho beccato una volta Lo becco due volte Non ho più la freccia Non ho più freccia Esi E via Aia Ma porca Pure l'uccello ci mancava Esi L'uccello che mi porta via Esi me lo spieghi Ma perché Cristo l'uccelli Vanno li non venire sempre da me Oh Eccolo là Esi lo vedo Lo vedo il ghast Aia Allora Esi Esi Non ho una pala Sto morendo come un idiota E come un idiota Mi sono anche bloccato Oddio No 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 Sì L'ho ucciso No L'ho ritirato a faccia Sì L'ho ammazzato È morto L'ho ammazzato Ok Esi Buono Mi ha distrutto Sogmina Mi ha distrutto pure Ma pensate Direi che possiamo tornare Tra un po' Rimettiamo un pochettino A posto casa E riprendiamo Dai ci vediamo fra poco Ok ci risiamo Sfortunatamente Io ho provato Ad andare nel nether Perché ci serviva una cosa La soul sent Solo che Non ci troverò mai più nel nether Non fin quando Avrò un armo decente Ok Ah guarda questo Abbiamo Va venato a mettere il legno Qui dentro Almeno Ah finalmente l'ha imparato Il legno Giustamente Ma ce l'avevo Ma quanto ci metti Per fare una cosa Ho fatto la spada in davanti Ok Allora Visto che ci siamo Stavamo pensando Di farci un query Perché ovviamente Ma perché ogni santa puntata C'è da una cosa Raga Io non ho fatto nulla I mostri diventano impazienti Sì Non ce la faccio più Poi ci dicono Perché non ricettate la mad pack Ma no Chissà perché Ma chi è che l'ha fatta Ma io voglio No 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 Il pezzente L'odio Raga Non giocherò mai più La mad pack In vita mia Vi giuro Dopo questa Non farò più Una serie di mad pack Allora Aspetta Ho fatto un piccolo diamante Ho fatto la cosa Allora Ho un'idea La cosa Sì ho fatto la cosa Allora Ho un'idea Dobbiamo farci un query Quindi prendo un po' di diamanti Prendo un po' di roba Mi servono tipo Quattro diamanti Otto pezzi di gold Mi sa Mi servono un paio di pezzi di gold Ok E il ferro ce l'abbiamo sotto Dimmi che hai salvato Perché c'è tutto il ferro addosso Ce l'avevo Ovviamente Non è che mi aspettavo Che arriva su un gas No No E si Bravo E si Meno ma E si mi stai prendendo Non fare un infarto Sono prenduto il ferro Ti giuro Eh l'abbiamo persa Comunque la roba Vabbè sti cazzi Che te frega Mi servono tipo Un paio di questi E fai un piccone in ferro Quello mi serve Lo sai Eh mi servono undici Di sti cosi Regà Undici 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 Ok Quattro E si Fammi il ferro Anzi no Fammi il piccone in ferro Per favore Te l'ho già passato Pezzo di sceo Grazie Ma sei davvero Guardi che sei un drogato Non è colpa mia Sei efficiente Sei efficiente Come un umano Deficiente Dove Quello che mi servo a me Allora Mi bisogna fare il query Tu lo vedi come si fa il query Mi servono un po' di resto Un po' di me anche un pezzo Scusami Un piccolo in diamante Ho sbagliato Un piccolo in diamante Per favore Grazie Tre Cinque sette Mi servono Mi servono Li tiriamo comunque Ok Sette Tre di questi Mi servono Poi mi servono Quattro di questi No Sì Quattro però Sì Quattro di questi Faccio io Fatto? Ammasso io Ok Perfetto Mi servono quattro di questi Parliamo in gold Easy portami Altri Altri gold Per favore Pensavano tipo Due Quattro No Sei Troppo gold Si No Sei Sei Portami Sei Ok Dai Facciamo almeno il query Poveretti ragazzi Questa puntata C'erano Vi sa di fare tantissime cose Però il gasto non voleva Gasto cattivi E spero vi piaccia anche questa tipo cosa Da mettere a webcam di qui Anche se in realtà Non è bastare al di però Almeno Così ho cambiato un po' L'hai preso il fold Pezzo di scemo L'ho preso Pezzo di scemo Stai zitto Portami anche Diamanti Però Che cazzo Altri quattro di amanti Tanto spiego Come i tuoi cosi Mica i miei Quindi si è fotta Vai butta butta Dammi 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 Non ho capito che volevi Diamanti Diamanti Quattro diamanti Butta Dai easy Dai E dalla Dalla easy Sto finendo la roba Easy dove l'hai buttato Dove stava Ho capito Qua No Come stai finendo la roba Un po' simile Un po' di detto Ce l'abbiamo Si Puttava addosso Che facciamo il query Vai buttava Ok Oddio Cos'è che ho mancato Ma dallo steffa Scusa io non vedo niente Qua qua adesso Niente Non me lo fa fare a mano Quindi devo farlo così Perfetto Ok Non vedo niente Ulisse La seconda Seconda crafting Fatto Bam prendi Che bella abbiamo un query Allora diciamolo delle chest Ovviamente Quindi Dove lo facciamo il query Dove sfranacamo tutto Aspetta Farmi più male a chest Farmi Sfranacamo E in realtà io direi Facciamolo sotto Così almeno se non abbiamo Problemi di gente Che vieni a pestarci Perché in realtà Verranno a pestarci Ma io non mi fido E prendiamo questo cosa Prendiamo Che Abbiamo l'energia Abbiamo l'energia qui dentro A farsi dei tubi Come tutti i cristiani No eh Andiamo giù Vieni qua Ma mia quanto di odio Lo facciamo Lo facciamo qui sotto Esi No 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 Che metti idea Lasciamo stare qui sotto No Facciamolo di qua Mettilo qua Ah mi sembra un'altra cosa Vabbè facciamo quello piccolino Mettiamo nemmeno il landmark Guarda io solo posizionarlo Posizionarlo solamente Esi dove stai andando Ah Quando che stai fatto sta caverna Esi Io Esi Esci stronzo Pezzetto Siamo attaccati con la gente Ma non ho attaccato Esi dove vai No no esi Non troppo giù No tutti Siamo i materiali Esi Sto controllando Stai calmo Andiamo sali C'è tu il query Ok posizionarlo qua 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 Dove Qua qua E qua così Qua così Sì Al posto Ok l'ha fatto da Eh però non mezzo alle scale Andiamo un po' più il lato Tipo qua Ok vedi in automatico Prende la zona Poi la taglia lui Non è un problema Noi ci mettiamo Perfetto Qua accanto survivalist Ok E sopra la cesta Che cazzo sta fatto Sta sta scavando Sta iniziando a scavare Da sopra È piccolino Però in realtà ragazzi A noi serve piccolino Perché se lo facciamo Troppo grande Arrivano i mob Ci massacrano Invece noi vogliamo Che sia piccolino Ci recuperi un po' di oggetti Allora che ho bisogno di soldi Mi hanno bisogno Ho un'idea Che idea hai Ho un'idea molto brutta Eh lo sai che Lo sai che Ah mi sono il call Mi serve Vabbè metti qua Oddio Ci vorrà l'eternità Buttare giù sta roba Teremo il server Un po' Ehm 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 Ulizzo Lezzo Lezzo Mi serve Ci sono i pipe qua Sì c'è Il parto Il parto Il parto Si ci sono Mi serve Il pipe di legno Ce l'abbiamo Il vetro Il vado No no che cosa vuoi fare Scusami Che cosa vuoi fare Zitto Ma dove la mia carne Io avevo la carne un tempo Ehm Ma l'ho presa la carne Raga Sembra Piagno Ah sai Dove Sei un pezzante Me l'ho rubata Certo Scusami Peraltro ho dato la mia Però ok Un grazie va bene lo stesso Ti chiedi Ti da metà Ah vedi mi ricordo come si fanno i pipe Ma mio dio E beh Però quell'illendio Dove si vuole fare altre ciò A fare Faccio altre ciò Serve una redstone Dammi una redstone Dammi una redstone Ah vuoi fare di pipe Ma che stai dicendo Che stai facendo Scusami Dai calmo In automatico la può uscire Già la roba Query Ehm Allora sei scemo eh Parla parla ragazzi più intelligenti Che abbiamo mai conosciuto Un lezzo Vedrai Dov'è Ok Mi serve una chest No Grazie Andiamo Ma voglio proprio vedere che cosa sta facendo ragazzi Vediamo se c'è ragione io Se c'è ragione tu Ha ragione sempre io a prescindere Scusami sulle mod Sì ma quello è lentissimo Qua non ce la farà mai a far sta cosa il buono Vai Andiamo un po' Dai raccontaci Lo sai vero che comunque non basterà Che vuoi fare Tardo Adesso non funziona in questo modo Ma come Da quando funziona anche con l'impulsore di alzano così piccolo Sì ok Tu dici vabbè Ok Il problema è che questo qua è troppo lento Quindi bisogna farsene altri Vabbè Facciamo in off camera Facciamo altri di questi in off camera Tardo Devi farti un gate Tu vuoi fare una cosa del genere Che tardo ragazzi Dai però è divertente Il fatto che giù sia tardo Oh ha voglia che è divertente Lascia sta Tanto comunque Io direi facciamo questo modo Vabbè qualche modo facciamo dai Facciamo No facciamo così No te fermo Guarda che va Guarda che va messo prima No Ulezzo Va messo prima quello di legno con i pipe Non puoi mettere tanto No 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 In realtà in realtà questo scava direttamente E butta la roba già fuori Non ha bisogno di quello di legno Non mi sembra Fidati di me Tu non conosci la build craft Io si Ok Allora comunque faremo un paio di questi Survivalist E noi ci vediamo nella prossima puntata Tu ti hai fatto la spada Ma tu sei proprio tardo sei Che se ne frega che se la apri Tanto dopo vedremo Non apri la roba Frutti e puzzi Wow Parla qualcuno Che possa definirsi affidabile Insomma Vabbè ragazzi Noi ci vediamo nella prossima puntata Ricordate qui sotto trovate il link Al canale di Esingar Che è il canale di feedback E se non la smetto Ogni volta di buttarmi sotto terra Al fine dell'episodio Io lo bannerò Noi ci vediamo nella prossima puntata Fatemi sapere cosa ne pensate Questa parte di webcam Che sta qui La smetti porca vacca Io me ne vado sopra Adi ragazzi Io lo faccio da solo la map Ciao Ciao